Appuntamento con l'informazione locale, i giornali, buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa, Occhio e Giornali, commenteremo tra poco le notizie dal Corriere Adriatico e il resto del Carlino Lo faremo con le pagine che abbiamo selezionato per voi anche questa mattina Partiamo con il santo però di oggi, il santo è San Teriberto di Colonia ma è anche San Giuliano Il sole è sorto alle 6.22, tramonterà alle 18.18 Sito di trebimeteo.com per vedere il tempo che farà questa mattina, oggi pomeriggio Allora in mattinata come vedete c'è questo nuovo impulso freddo con locali rovesci, nevosi sotto i mille metri Abbiamo un po' di nuvolosità soprattutto nella parte centro meridionale della nostra regione Con piogge anche sul Maceratese, sull'Ascolano, in particolare nella fascia collinare Questo è invece il pomeriggio con sole splendente su tutta la costa settentrionale marchigiana Continua a perdurare un po' di maltempo nel centro-sud ancora durante la serata sulla costa fermana della nostra regione Per domani invece, mercoledì 17, ecco qua come si presenterà la mattinata Con addirittura qualche temporale isolato sulla costa sotto Ancona Per il resto avremo sole su gran parte del centro-nord Adesso andiamo invece a vedere i giornali con chiaramente in primo piano la notizia che l'Italia ha bloccato in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca Dunque siamo nel bel mezzo di un caos, oltre ad essere nel bel mezzo della pandemia L'edizione del Corriere Adriatico di Pesaro titola AstraZeneca c'è lo stop Sospeso per precauzione il vaccino, disagio e proteste anche, ovviamente non poteva essere diversamente nelle marche Ora c'è il rebus del richiamo, cioè chi ha fatto la prima dose adesso si sta domandando che cosa deve fare per la seconda Visto che è sconsigliato cambiare vaccino, cioè uno che ha fatto AstraZeneca teoricamente dovrebbe concludere il ciclo, il richiamo con AstraZeneca e non con altro Intanto scatta l'allarme per le terapie intensive, sono strapiene Il picco arriverà tra una settimana, superato il record dei ricoveri totali A centropagina, Marche Nord, cresce la pressione, Covid, allarme e saturazione Poi di spalla, sempre sulla prima del Corriere Adriatico, la notizia di questa compagnia aerea nuovissima che deve decollare Tutta made in Marche Adesso i marchigiani hanno fatto l'accordo con i danesi della DAT E dunque Kairos Air, questo è il nome della compagnia aerea marchigiana Può iniziare a progettare le rotte, può iniziare a volare Dunque niente stretta con gli spagnoli di Ayr Nostrum, bensì con i danesi della DAT Sfonda dice un cambio in corso durante la rinegoziazione, parole di Paolo Tanoni che raccorda idee e azioni E dunque indica anche la rotta in tutti i sensi Fibra ultraveloce, parliamo di internet in tempi di pandemia e con molti che sono costretti a lavorare a casa Studenti che devono studiare da casa, accelera il piano, 12 milioni di euro per questa fibra ultraveloce Ma vedremo, non è oro tutto quello che luccica Bonus babysitter congedi e domande e ancora Barahonda Poi a Pergola c'è la pandemia, però parlano di Chiara Ferragni, scoppia la polemica E poi una lite a Urbino, tra minore alla fortezza, ferisce un amico con il vetro Violenza innescata dall'alcol lo scorso 6 marzo per le lesioni aggravate, denunciate un 15enne Poi il sindaco Ricci che spinge sul gas, subito ius soli e voto a 16 anni Carlino Di Pesero, un altro reparto Covid in ospedale Questo è il titolo d'apertura, per arginare la furia del virus al San Salvatore Aggiunti 18 letti nella ex chirurgia, tutti subito occupati Poi la notizia dei conti della multinazionale BS, fatturato giù e chiusura in Cina Ma qui invece ci sono nuove assunzioni Poi un divieto sulla Fano Grosseto di superare il limite dei 70 km orari Trova sempre spazio sulla prima del Carlino, così come la fotonotizia e il miraggio del vaccino Il titolo AstraZeneca sospeso anche delle Marche, nuovi disagi al Monaldi Concorso vinto, così 6 infermieri abbandonano Marche Nord Poi festa di laurea sul balcone, arriva la polizia e multa tutti quanti Verso la riqualificazione invece dell'ex ospedale psichiatrico a Pesero il San Benedetto Un passo avanti in più, approvata l'intesa con il Comune Sull'argine del Foglie invece grufolano i cinghiali, avvistato un piccolo branco la torraccia E poi al Monte Nerone i vandali si accaniscono contro la Madonnina Il Carlino di Ancona stoppa le nuove vaccinazioni Dopo il blocco di AstraZeneca in tutta Italia La regione garantisce solo richiami con Pfizer e Moderna A centropagina la beffa della prima dose Nessuno ha avvertito i tanti anziani che non c'erano i sieri Questo succede ad Ancona ma in realtà poi è successo un po' ovunque Allora entriamo nelle pagine interne Bufera su AstraZeneca, sospese le vaccinazioni, garantiti solo i richiami Dopo la decisione dell'AIFA le marche bloccano la profilassia anti-Covid Caos ieri nei punti di somministrazione Tra poche dosi e stop definitivo Dunque la notizia è in realtà che dobbiamo dare anche per assicurare un po' E che saranno garantiti i richiami per tutti quei cittadini che hanno più di 80 anni E che si sono già vaccinati con Pfizer Per oggi infatti è attesa una fornitura tra le 18.000 e le 21.000 dosi E anche quelli che hanno fatto Moderna nelle scorse settimane Che potranno recarsi nei punti di vaccinazione Così come da programma per il completamento del ciclo Quindi questa è la notizia Mentre tutti gli altri ovviamente sono fermi Intanto l'Italia sospende i vaccini AstraZeneca Psicosi e caos ma gli scienziati rassicurano Stop in mezza Europa, allarme in Germania Dove tra l'altro è stata riscontrata una rara forma di trombosi Mentre l'AIFA dice questa è una pausa precauzionale Giovedì arriverà anche il verdetto Emma Ora qui sotto il resto del carino pagina nazionale Pubblica le dichiarazioni dei parenti delle tre vittime A Napoli, a Bologna, a Siracusa Mia madre dice per esempio È sempre stata bene e in salute Non aveva malattie Improvvisamente dopo aver fatto il vaccino Ha cominciato ad avere la febbre Poi a vomitare E ora è in rianimazione A raccontarlo è Raffaele Conte Figlio di Sonia Battaglia 54 anni di San Sebastiano al Vesuvio Che è in rianimazione all'ospedale del mare di Napoli Invece qui l'ultimo messaggio del professore di Bologna Che di 63 anni Giuseppe Morabito Piccolo di Oppido Mamertina Che è un piccolo comune in provincia di Reggio Calabria La procura di Bologna Ha aperto adesso un fascicolo In seguito alla morte di questo insegnante Di questo docente Che aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca Il Tribunale ha aperto un'inchiesta Per conoscere le cause L'ultima telefonata ad una collega Diceva non chiamatemi Perché fatico a parlare Poi sabato purtroppo è morto Mentre racconta qui invece Da Siracusa La moglie di questo Di Stefano Paternò Che è il militare morto in Sicilia Ha fatto il vaccino Dice la signora Lunedì mattina alle 10 Siamo tornati a casa verso le 17 Era una giornata semplice Mentre stavamo tornando a casa Ha avvertito qualche brivido Poi siamo andati a dormire Verso le 23 23.30 E verso le 2 Mi sono svegliata Perché ho sentito uno strano russare Lui si è irrigidito Aveva gli occhi fissi E poi è morto Queste sono le terribili dichiarazioni Di quello che è successo A proposito Degli effetti collaterali Di questo vaccino Intanto L'AIFA continua a ribadire Chiaramente Questi sono organi Che non possono fare diversamente E non possono dire Che questo Il vaccino è sicuro Dicono Il risponso arriverà In pochi giorni Le verifiche nei laboratori Il direttore generale Magrini Dice Pochissimi casi di eventi avversi Clementi avverte Invece il virologo marchigiano Massimo Clementi Dice Sulla vicenda serve Vedete a sinistra Serve una risposta Sulla vicenda Che non sia equivoca Questo blocco Spero sia fatto a fin di bene Dice ancora Clementi Ma è chiaro che Insomma Come dicevamo Partito male Secondo me Finirà anche peggio Nel senso che Non so come faranno A convincere Milioni di persone Che In realtà Era tutto È tutto sotto controllo L'immunologo intanto Parla di queste trombosi Pochissimi Casi Ma senza fiducia Quel vaccino è segnato Vedete Quello che dicevo appena Poco istante fa Cioè Il prof forni Dice anche se alla fine Verrà scagionato Anche se alla fine dirà No guardate che funziona Non c'è nessun problema Eccetera eccetera Difficilmente Questo vaccino Riavrà Credibilità Studi preclinici Eccellenti Poi fase 3 Disastrosa Ecco qualcosa Quindi è andato Sicuramente Male Tra l'altro Guido Forni Classe 1944 Immunologo Di lungo corso Di Chiara Fama Che insegna L'Università Di Torino Difende i vaccini A ragione veduta Lo stop Dell'agenzia del farmaco Ad AstraZeneca Colpisce profondamente Anche lui Che fa parte Del comitato di vigilanza Lui dice però Io in questi giorni In queste ore Sto ricevendo Una marea Di E-mail Di telefonate Perché mi chiedono Fino a che punto Possiamo fidarci Questo è il discorso Fino a che punto Possiamo fidarci Anche di quello Che ci dicono Il sospetto Dilaga Qual è la sua posizione Di scienziato Il sospetto Non è una prova Ma ormai AstraZeneca Dice è marchiato Emotivamente La gente non si fida Anche se verrà scagionato Dall'inchiesta Dell'ente europeo Sarà dura Restituirgli credibilità E questo è un guaio Che non ci voleva Perché Da quattro vaccini Che sono quelli disponibili Perché sta arrivando Anche quello Della Johnson & Johnson L'americana Ne avremo tre Se AstraZeneca Andrà fuori Servizio Diciamo così E con tre Diventa tutto Molto più complicato Un vaccino Finito nel mirino Fin dall'inizio Ed ecco Quello che vi dicevo prima La storia La sua storia È tormentata L'idea di base È geniale Usare come vettore L'adenovirus Dello scimpanzè Seguendo l'intuizione Del professor Cortese Scomparso nel 2017 Gli studi preclinici Sulla risposta immunitaria Sono stati molto accurati E hanno dato risultati brillanti AstraZeneca Pareva la risposta ideale al covid Europa e Gran Bretagna Hanno puntato forte Sul suo sviluppo Poi qualcosa È andato storto Ovvero che cosa La fase 3 La fase 3 È stata disastrosa Almeno dal punto di vista Dell'eco Cioè Dell'informazione L'errore Per esempio Della doppia dose Le elaborazioni Discutibili Le fazioni Contrapposte Di oppositori Difensori d'ufficio Logico che le persone comuni Fossero prevenute Poi queste morti Tutte da verificare Ma il dubbio Ormai Si è insinuato Si arriverà alla verità Velocemente Siamo mobilitati Dice lui La riunione degli esperti Ama e AIFA È convocata Ma non sarà semplice capire Che cosa è successo Realmente Intanto l'ordine dei medici Dice Dateci lo scudo penale Chiaramente Quando si arriva in queste situazioni Poi tutti vogliono essere Preservati anche da possibili cause Che arriveranno sicuramente Anche a carico di chi ha fatto Questo Questo vaccino Intanto Venendo qui Tornando Giustamente Nel nostro territorio E quindi A San Costanzo In provincia di Peso Urbino C'è una persona Che ha raccontato La sua testimonianza Lo ha fatto Sui social Poi i giornali L'hanno ripreso È Margherita Pedinelli Di 39 anni Che è stata Fino al 2019 Sindaco di San Costanzo Ora è dipendente Di una scuola E lei racconta E i giornali Hanno ripreso Appunto Questa testimonianza Racconta Come è andata Dopo aver fatto Questo vaccino Del lotto Incriminato Sospeso A scopo Prudenziale E a leggerlo Qui lo scrive Sandro Franceschetti E a leggerlo Fa venire La pelle d'oca Perché tra l'altro Si avvicina molto A quello che Abbiamo appena letto Dalla signora Moglie di quel Militare Che è appunto Deceduto a Siracusa I sintomi erano gli stessi Più o meno Anche gli orari A leggerlo Fa venire davvero La pelle d'oca Ma grazie al cielo Margherita Pedinelli Poi in 48 ore Se l'è cavata E quindi Adesso sta bene Però lei Racconta Come ha patito Una reazione Molto forte A questo A questo vaccino Dice ora sto bene Ma serve Un maggior monitoraggio E ha ragione Nel senso che Non è che Uno fa Il vaccino Poi ha degli effetti Ecolaterali Molto violenti Molto forti E poi chi si è visto Si è visto Giustamente Andrebbe un attimino Analizzato Certo avere il tempo Avere le persone Avere le strutture Andrebbe analizzato Perché? Perché capire Che cosa è successo In questo organismo Allora E lei racconta Era verso mezzogiorno Dice Margherita Pedinelli E nelle prime ore successive Sono stata benissima Cioè dopo aver fatto il vaccino Io non ho avuto nessun problema Poi l'improvviso Intorno alle 22 e 30 Quindi da mezzogiorno Al 10 e mezzo di sera Ho iniziato ad avvertire Dei forti brividi di freddo E misurando la febbre Ho visto che era arrivata A 39 e mezzo Contemporaneamente Ho cominciato ad avere nausea Con atti di vomito Mal di testa E un intenso dolore Il braccio sinistro Ha voluto condividere Adesso che sta meglio Condividere un pochettino Insomma sui social Questa sua brutta avventura Corre il virus Intanto nella Val Cesano Sempre dal Corriere d'Arresto del Carlino In una settimana Un aumento del 34% I casi sono passati Da 226 a 303 Con numeri importanti In quasi tutti i comuni Pergola raddoppia Mondolfo Addirittura sopra i 100 E questo è il riquadro Vedete Con i numeri Che potete scorgere velocemente In questi pochi secondi A disposizione Così vi rendete conto Di come sono le cose Positivi all'8 di marzo E positivi una settimana dopo Vedete come Mondolfo Da 89 passa a 112 Mondavio da 31 a 48 Quindi da 226 in totale A 303 in tutto Intanto continua ad Ancona Per esempio Ecco c'è un altro racconto Da Pesaro abbiamo visto Pedinelli Da Ancona invece Un vigile urbano Perché sapete AstraZeneca Era destinato Agli insegnanti E ai vigili Alle persone Delle forze dell'ordine Ora Questo Pier Francesco Curzi Racconta Invece Come è andata A quest'uomo Che fa parte Dei vigili urbani Uno dei 16 vigili urbani Che si sono vaccinati Nel comune Di Ancona Di Ancona Io tra i 16 Sicuramente Sicuramente Sbloccheranno AstraZeneca I riservisti del vaccino Questa è interessante Perché ci sono i riservisti Nel senso che ci sono persone Che si sono messe in lista Per fare chiaramente il vaccino Poi per mille ragioni O perché si è ammalato Oppure perché ha avuto un contrattempo Non c'è chi li accompagna Per tante Oppure rinuncia Semplicemente perché rinuncia Ha cambiato idea E cosa succede? Succede che questi vaccini Non possono essere sprecati Non possono essere sprecati E quindi vanno somministrati Perché altrimenti Insomma Andrebbero buttati Ora Che cosa dice Che cosa dice Magnoni Di questi riservisti Dice una cosa interessante Che stando a quello che ha detto Il commissario straordinario Per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo A che tempo che fa su Rai3 Ha detto che pur di evitare Gli sprechi delle dosi Quando non si hanno più persone prenotate O persone nelle liste di priorità Si può vaccinare Anche il primo che passa Ok? Questo per dire Che non si deve buttare via nulla E la Regione In base alle direttive nazionali Dice Romeo Magnoni Del direttore Arevasta 1 Lo vedete in questa fotografia Tra questi Rientrano ovviamente I soggetti più a rischio Tra i quali i idealizzati E i trapiantati Poi in terza battuta Se non si riesce a reperire Questi soggetti In tempo utile Prima che il vaccino scada Allora la legge Permette di fare il vaccino Ai volontari di protezione civile Che prestano servizio In quel momento E poi c'è tutta L'altra intervista E le altre domande Che sono ripeto Interessanti E che Meritano di essere Approfondite Mentre Ieri pomeriggio Nella zona mare Di Pesaro In via Battisti Il Carlino Informa che C'è stata C'è stata Una festicciola Di laurea Sul balcone Il balcone di casa I vicini chiamano La municipale E sono stati Multati Il padrone di casa La figlia Novella laureata E anche tre amici Arrivati per l'occasione A rischio Tre milioni di dosi In marzo No al mix Di due sieri diversi Ecco qui vedete Grave danno Alla campagna Di immunizzazione Gli effetti collaterali Più comuni Febbre e stanchezza Il Carlino Qui pubblica Pagina 5 Le domande E le risposte Su questa Su questa cosa Su questa confusione Che si è creata Mentre il corriere Vaccinazione domicilio Per lo stop AstraZeneca L'agenda Praticamente È tutta da rifare Dopo l'accordo Che è stato trovato A fatica Con i medici di base Che appunto Sono pronti Ad andare Anche nelle case A domicilio Per somministrare Il vaccino Adesso È stata fatta Una lista Eccetera eccetera Adesso tutta quanta St'agenda Deve essere rivista Infatti Senza quel siero Andiamo nelle case Più sereni Dicono loro Una sola certezza Per la nostra Reavasta 1 Sono in arrivo 390 fiale Di Pfizer Questi sono Come abbiamo visto Per i richiami Poi anche il corriere Adriatico Pubblica qui La testimonianza Di Margherita Pedinelli Dopo il siero Aggredita Da febbre alte Dolori Questa è la notizia Sempre sulla Corriere Over 80 I vaccini a domicilio Fermati prima della partenza Ieri c'è stata Solo la distribuzione Delle dosi Ai medici di base Quindi i medici di base Hanno ricevuto Le dosi Poi è arrivato Questo stop Per AstraZeneca Quindi niente Maggi Segretario regionale Dice Le equip Stanno valutando La modalità Per avvertire Tutti i pazienti Operazione dunque Che si ferma In stand by Adesso si attende Il risponso Dell'EMA L'ente che dovrà Certificare Come dicevamo Se questa vaccinazione Con AstraZeneca Può continuare Oppure no Allarme e terapie intensive Invece Questo è l'altro problema Il picco Tra una settimana Le proiezioni di Agenas Stimano circa 100 posti Di rianimazione Occupati per Covid Nelle Marche Tra ospedali RSA Assistiti Siamo a 1.232 Malati positivi Superato il record Della prima ondata Nella prima ondata Erano 1.168 Adesso siamo a 1.232 Quindi abbiamo Aumentato E abbiamo battuto Il record Intanto in un giorno 415 positivi Il 37,8% Dei tamponi E purtroppo Altre 15 vittime Del virus Forte pressione Su Marche Nord In 10 giorni 53% Di ricoveri in più Si convertono I posti letto E reparti I sindacati dicono Non c'è stata Programmazione E dunque Nella Nell'azienda Marche Nord Quindi San Salvatore I ricoverati In terapia intensiva Come vedete Sono aumentati Dal 5 marzo Erano 28 Siamo passati Al 15 marzo Con 39 Quindi 11 persone in più Vedete tutti i numeri Che sono in salita Da 105 in totale A 161 Quindi sono stati aumentati Di 18 posti Come a pagina 5 Ci informa Il resto del carrino Nuovo reparto Covid 18 posti Già occupati Attivato domenica sera A San Salvatore Dove c'era chirurgia Nel giro di poche ore È stato riempito Di malati Quasi esaurita La rianimazione Chiusa la pagina Le pagine dedicate al Covid Siamo a pagina 22 Invece sul resto del carrino Vandali senza sosta Contro Madonna e Bambino Sconcerto per le statuine Danneggiate in serie Alla balza forata Del Monte Nerone In passato addirittura Decapitate O distrutte Da ignoti Praticamente sono quattro volte L'ultima pochi giorni fa Che la statuetta Sul Monte Nerone Raffigurante La Madonna con il Bambino Subisce degli atti vandalici E c'è chi è stanco Di questo vile gesto Del solito O soliti ignoti E quindi Hanno deciso Di renderlo pubblico La zona Dove sono state collocate Negli anni Non è certo Di facile accesso Il culto Della Madonna In queste zone Di montagne Insomma affonda Nei tempi più remoti Ed è radicato Ora Brevissimo commento Perché io sono di parte Quindi poi rischio Di andare oltre Ma comunque E' chiaro che Non c'è da stupirsi Non c'è da stupirsi Perché se Un festival di Sanremo Per esempio Che è un festival Seguito Un festival Che è il nazional Popolare Eccetera In più occasioni Ha mandato in onda Rappresentazioni Blasfeme Dove Si è preso in giro La fede cattolica Si è preso in giro Addirittura L'immagine proprio Della Vergine Maria Eccetera Cosa vogliamo pretendere Cosa vogliamo pretendere Cioè non c'è nulla Da pretendere Questi sono i risultati I risultati Di quello che è Insomma Non c'è da stupirsi Di quello che Di quello che Di quello che Fanno E quindi Cosa vogliamo fare Questo è E qui mi fermo Passeggiata Bella e romantica Sulla pagina di Fanno Alla Darsena Parte il cantiere Questo è un progetto Un progetto strategico Per turismo e sicurezza Le ferrovie Devono ampliare Il sottopasso Ieri sono iniziati I lavori Alla Darsena Borghese di Fanno La stessa Assessore Lavori pubblici Tonelli Ha voluto Recarsi sul luogo Insieme all'assessore All'arredo Barbara Brunori Al sindaco Massimo Seri Per consegnare L'area di intervento Alla ditta Antonacci di Trani Che ha vinto La gara di appalto Per un importo Di 250 mila euro Su un costo totale Del progetto Di 400 mila Di cui 75 mila Finanziati dal gruppo Di azione costiera E' un bel progetto Di cui vi abbiamo parlato Anche nel corso Dei nostri telegiornali Delle settimane scorse E' un bel progetto Che se portato a termine E così come l'abbiamo visto Potrebbe essere Una Davvero Un valore aggiunto in più Che darà la possibilità Di raggiungere Il centro al mare Facendo questa passeggiata Lungo questo canale Lungo questo pezzo di città Che è molto bello Che merita di essere valorizzato Poi ancora dai quotidiani Ecco anche qui La pagina di Fano Del resto del Carlino La Darsena Borghese Sogna addirittura I Navigli I Navigli di Milano Iniziati i lavori L'assessore Tonelli dice Vorremmo offrire I turisti e i fanesi Un rinnovato angolo Caratteristico Della città Consiglio in presenza Sala tutta da rifare A causa dell'emergenza Covid Da un anno Sedute del Consiglio Comunale Di Fano Sono online Protesta Tarsi Ma cecchietelli Dice serve Una trasformazione totale Intanto ecco La questione Della superstrada Anche sul nostro Gruppo Reporter di strada Molti hanno protestato A passo di Lumaca Ecco perché Anna si impone Il limite dei 70 Nel tratto Fano Lucrezia Dove c'è l'autovelox Ma il motivo È che bisogna Riasfaltare Non si sa Ancora quando Ora ve lo dico Per esperienza personale Lì io ci passo Tantissime volte E quindi effettivamente L'asfalto È molto 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 Ammalorato È devastato È pericoloso Andare Ad una Forte velocità In un asfalto Del genere Tant'è che io Quando posso Sto sulla corsia Di sinistra Di sorpasso Proprio perché Quella di destra È impraticabile Quindi andare Oltre 70 È seriamente Mettere in pericolo Le persone Intanto su Olmi Abbattuti a Fenile Indagala forestale Su questo ci fermiamo Perché il nostro tempo A disposizione è finito Vi ricordo Stasera alle 20.30 Il telegiornale Poi guarda chi c'è Con l'imprenditore Diego Mingarelli Alle 21.30 Saremo un po' più In ritardo Rispetto Al solito orario Di programmazione Alle 21.30 Ovviamente Intervistato Da Paolo Notari Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.